Un grande applauso per Piero Pelù e Gianna Fratta! Buonasera. Buonasera. Abbastanza valutata la portata di questa mafia, come artisti siamo vicini a loro e lo saremo anche in futuro. Mi auguro che tutte le persone che vivono in questo territorio si sentano questa responsabilità e questa grande voglia di non essere mai colpiti dal cancro della mafia. Grazie. Come è possibile che rendi tutto più possibile? Sei la musica, sei la mia sola cosa magica. Ogni giorno cambiare la musica, ogni notte scavare nell'anima. Ma perso negli occhi tuoi come dentro un mistero. Ero perso in un sogno come fosse tutto vero. Come è possibile che rendi tutto più possibile? Sei la musica, sei la mia sola cosa magica. Ero perso in un sogno. 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 Ero perso. Grazie a tutti.